Josiah Royce. Josiah Royce, vissuto tra il 1855 e il 1916, è tra i più importanti esponenti di quello che si è soliti definire neo-idealismo americano. È un autore molto fecondo, le cui opere più rilevanti sono indubbiamente l'aspetto religioso della filosofia del 1885, lo spirito della filosofia moderna del 1892, la filosofia della fedeltà del 1908 e infine le fonti dell'intuizione religiosa del 1912. Royce propugna un monismo assoluto e radicale, un monismo assoluto e radicale al quale egli addiviene per il tramite dell'analisi del problema gnoseologico. Avere un'idea alla quale sia corrispondente un oggetto vuol dire avere in pari tempo coscienza di tale corrispondenza. Detto altrimenti, quando ho un'idea, ho anche coscienza del fatto che ho un'idea. Sicché, a giudizio di Royce, deve esistere una mente che, avendo insieme l'idea e l'oggetto, ne possa appurare la corrispondenza, asserendo che la prima rappresenta il secondo. Eppure, se questa mente fosse finita, l'oggetto permarrebbe al di fuori di essa, e così la giustificazione della corrispondenza tra la rappresentazione soggettiva e l'oggetto sarebbe rinviata a una mente superiore, comprensiva di tutte e due. Per non procedere secondo il regressus ad infinitum, si deve di necessità presupporre l'esistere di una mente infinita. Royce la chiama anche mente tipo. Una mente infinita o mente tipo che contenga in atto tutti quanti gli oggetti possibili e tutte le rappresentazioni che a quegli oggetti corrispondano. Sicché le menti finite non sono che momenti interni della mente infinita o mente tipo. Momenti finiti che ricavano la verità o la falsità delle loro relazioni ideative dalla corrispondenza o dalla non corrispondenza alle relazioni che oggettivamente esistono nella mente infinita o mente tipo. Abbiamo dunque a che vedere con una metafisica monistica che riconosce una mente infinita, che alla base di tutte le corrispondenze tra soggetto e oggetto, e al quale fa seguito un'etica armonicistica. Un'etica armonicistica che Royce volle definire filosofia della fedeltà. Che cos'è la fedeltà? Secondo Royce è la volontaria e completa devozione pratica a una causa. Per causa, a sua volta, Royce intende ciò che collega diverse vite umane nell'unità di una singola vita. Benché la causa racchiuda già in sé un principio unificante, bisogna non di meno ammettere che nel mondo vi sono molteplici cause a cui vale la pena consacrarsi, e che non tutte le cause sono pienamente compatibili tra loro. La domanda che si pone è allora quale sia la causa a cui è bene dedicarsi in maniera prioritaria. Royce risponde sostenendo che occorre scegliere quelle cause che permettano di essere fedeli al maggior numero possibile di cause. Vale a dire di attuare la massima armonia possibile tra tutte le esigenze pratiche che si estrinsecano nella realtà. In tal guisa, dice Royce, si attua la fedeltà alla fedeltà. Infatti non si è più fedeli solo a una singola causa, ma si promuovono e si valorizzano le cause del maggior numero possibile di soggetti. La fedeltà alla fedeltà diventa dunque la base della filosofia della fedeltà di Royce e sfocia in un processo etico che ha come obiettivo l'universalizzazione della fedeltà tramite l'assunzione della fedeltà alla causa che più sviluppa le fedeltà e più rende possibile un'etica universale.